Grazie a Fratelli d'Italia, l'Italia si presenterà al Consiglio europeo con una linea chiara di politica internazionale, pieno sostegno all'Ucraina nel quadro delle alleanze occidentali di cui fa parte la nostra nazione e un impegno preciso per l'istituzione di un fondo di compensazione per le nazioni più colpite dalle sanzioni. Con il nostro testo abbiamo così colmato le lacune della debolissima risoluzione che la maggioranza aveva redatto nel tentativo di mettere insieme, come al solito, tutto il contrario di tutto. Grazie